Air Canada Rouge prende il volo da Venezia. Voli non stop da Venezia a Toronto tre volte la settimana. Con collegamenti immediati con gli Stati Uniti, Caraibi e il Centro America a tariffe molto convenienti. Prenota subito in agenzia di viaggio o su aircanada.com. E la vacanza inizia quando si sale a bordo. Grazie a tutti.